Consiglio Comunale particolare a Montesilvano con l'uscita di scena di Fratelli d'Italia subito dopo del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Alla fine è rimasto quasi da solo il Presidente del Consiglio Ernesto De Vincentis. Cos'è successo? Sì, quasi da solo. C'è una posizione di una parte del centro-destra rivendicata da un gruppo che è quello di Fratelli d'Italia ormai da qualche mese. Se è legittima politicamente, oggi c'è stato l'abbandono, poi a seguire c'è stato anche l'abbandono del gruppo di opposizione. E' una strategia anche quella che io avrei fatto sinceramente un po' diversamente. Però insomma questi sono scontri tra virgolette normali in un Consiglio Comunale e c'è, ripeto, la posizione di una parte del centro-destra che è legittima e che va risolta. In un modo o in un altro va risolta. Ma le era mai capitato dopo tanti anni di politica? No, non mi era capitato in queste occasioni che due gruppi, o meglio una parte del centro-destra e l'intera opposizione a quel punto abbiano abbandonato il Consiglio, che è a mia memoria. Però ripeto, è una scelta, una rivendicazione da parte di Fratelli d'Italia legittima, lo era altrettanta quella dell'opposizione. Io non l'avrei fatta in quel modo da parte dell'opposizione, però è legittima. Voglio dire, potevano rimanere a mio avviso in Consiglio Comunale e far vedere che erano loro che insomma reggevano una maggioranza che obiettivamente oggi ha qualche difficoltà. In tanti hanno perso la pazienza, in qualche frangente anche lei, Presidente? Beh no, sì, ho perso la pazienza perché purtroppo il ruolo del Presidente del Consiglio è superpartner, se questo è vero è al di sopra delle parti, però è altrettanto vero che c'è un regolamento e il regolamento io lo devo far rispettare. Mi dispiace se qualche volta accade che si alzi un po' la voce, ma è il regolamento, purtroppo è scritto, non l'ho scritto io e quindi io devo farlo rispettare.